Marco Divaio, hai appena firmato il tuo primo contratto da dirigente dopo una vita sul campo, che effetto fa? È bellissimo, è meraviglioso per me, si avvera un sogno che avevo da quando avevo lasciato Bologna due anni e mezzo fa, tre anni fa e adesso si avvera il sogno che posso iniziare una nuova verriera qua nel Bologna come desideravo. Cambiano i ruoli ma resta una costante, Bologna e il Bologna. Quando sono partito da Bologna tre anni fa ho avuto questa possibilità di andare a giocare in Canada, non sapevo per quanto tempo però il mio primo pensiero era di voler, finita la carriera da calciatore, di voler tornare e cercare di aiutare la società nella sua crescita e mettermi a disposizione. Poi sono successe cose incredibili come l'arrivo di Saputo, di Tacopina, il cambio della società dunque è successo qualcosa di straordinario per tutti noi, per il club, per la città, per i tifosi, per la squadra. Adesso inizio una nuova avventura con grande entusiasmo perché c'è un progetto importante davanti, c'è un progetto di crescita e un presente e un futuro importante per tutti noi. Quale sarà il tuo ruolo? Club manager all'interno dell'aga tecnica, vicino al direttore sportivo, vicino alla prima squadra così ho la possibilità di vivere ancora nello spogliatoio, di stare a contatto con i ragazzi, di stare a contatto con l'allenatore con la parte tecnica, però allo stesso tempo imparare e vedere come lavora il direttore Corvino per una mia crescita professionale. Sono molto contento, è una grande opportunità per me e metto a disposizione la mia esperienza da calciatore e la mia conoscenza con grande disponibilità. Ti trovi a iniziare la tua carriera da dirigente al fianco di grandi nomi del calcio italiano come Fenucci e Corvino. Un esempio, uno stimolo o cos'altro? Ho solo da imparare, ho la grande possibilità di imparare da loro che sono vent'anni che fanno i dirigenti ad alto livello nel calcio italiano con grandi risultati per me e per tutti noi, è una grande possibilità di crescita, sono e siamo fortunati. Tu stai già lavorando da tempo al fianco della squadra e rispetto ai tanti allenatori che hai conosciuto in carriera, che tecnico è Lopez? Assomiglia a qualcuno in particolare? Diego ha una grande personalità, mi piace molto il suo rapporto che ha creato con i giocatori, molto schietto, onesto, pretende, però non alza mai la voce, dunque ha sempre dei modi garbati nei confronti della squadra e riesce a ottenere grandi risultati come ho dimostrato fino a questo momento. Ha costruito un gruppo importante, con la sua personalità è riuscito a farsi eseguire e a portarsi dietro tutto il gruppo, questo dimostra che ha una forte personalità. Poi ha dei chiari di calcio e mi piace perché ci si può confrontare tutti i giorni nello spogliatoio, ascolta tutti, però alla fine prende dura la decisione, questo di nota ha una grande conoscenza. La squadra ha chiuso alla grande il giornale di andata ed è ripartita molto bene dopo la sosta. Quali sono le tue impressioni su questo gruppo? Un gruppo molto unito, forte, che dalle macerie della retrocessione ha costruito un'identità insieme al corpo tecnico. Hanno fatto un grandissimo lavoro, non facile, soprattutto dopo una retrocessione così dolorosa per tutta la città, per tutti noi, dunque è un gruppo che nel lavoro quotidiano crede e lavora forte tutti i giorni e sa che passa dal lavoro quotidiano ai risultati del fine settimana, dunque stanno avendo grandi risultati proprio per questo, perché lavorano molto forte e molto duramente ogni giorno e pretendono e alzano l'asticella tutti i giorni e penso questo sia la base per arrivare a un grande risultato come la promozione a fine campionato, cosa che desideriamo tutti noi, perché è il nostro obiettivo e dobbiamo raggiungerlo. Tu conosci Gioi Saputo da tre anni, ci racconti qualcosa di lui di cui ancora qui da noi non si è parlato? Sì, che ci tiene molto, vuole vincere, è una persona molto ambiziosa che vuole raggiungere il massimo risultato, sempre, la vittoria e quando non ci riesce si fa sentire, la persona presente l'ho visto arrabbiarsi spesso con noi, con la squadra, l'ho visto arrabbiarsi magari a volte anche con il direttore sportivo e dunque la sua apparenza è così, è una persona molto pagata, però la domenica si trasforma, nel prima della partita è molto nervoso e dopo la partita se le cose non vanno bene si fa sentire, però dà mentalità, dà voglia, fa capire che le sue ambizioni, che sono le ambizioni di tutti noi, questo lo trasmette ai suoi collaboratori giorno per giorno e lo trasmette anche alla squadra, penso che questo è molto importante.